Salve a tutti, come state? Spero tutto bene. Io sono Alessandra Delle Vigne e vi do il benvenuto, il bentornato, se mi subite da un po' sul mio canale. Questo è il mio video natalizio, quindi questo è il mio special natalizio, che però vi ho pubblicato qualche giorno prima, perché sotto questi giorni festivi sarò molto impegnato con il lavoro, quindi mi sarebbe un po' impossibile riuscire a registrare, e avevo anche pensato di registrare direttamente a Natale, però poi tanto so che fra una cosa e un'altra, anche la sera del 24, non ci avrò la testa per mettermi a registrare, a fare cose, quindi ho detto sapete che c'è, me lo faccio prima così ve lo guardate a Natale, così lo aprite la sera di Natale, come regalo natalizio, e niente, detto questo, qual è lo special di quest'anno? Nello scorso c'erano i regali brutti, quest'anno volevo portare un format diverso, e tra l'altro per l'occasione mi sono messo anche in cosplay, questo è il cosplay natalizio che porterò quest'anno per il photoshoot tradizionale di Natale, quindi quest'anno c'è l'unico smartphone natalizio, e siccome stavo provando l'outfit per lo photoshoot di sabato, mi sono detto sai che c'è, non me lo tolgo, registro così, così, è ancora più interessante, e tra l'altro devo anche sistemare la parrucca perché sta facendo un po' cagare, però vabbè, comunque, detto questo, qual è lo special di quest'anno? Quest'anno ho deciso di fare qualcosa di diverso, quindi non sapevo che fare, ho detto vabbè, avevo pensato anche tipo a un video dove vi consigliavo film di Natale, eccetera, però ci sono 2000 video del genere, quindi ho detto facciamo qualcosa di diverso dal solito e dalle altre persone, quindi ho trovato un'interessantissima lista di domande da fare inerenti a libri letti, cioè tipo tu leggi un libro, vuoi parlarne, vuoi raccontarlo, questa serie di domande ti aiuta a esporlo, e quindi mi sono prefissato di modificarlo, quindi invece che farlo come se io avessi letto un libro, quindi io lettore vi racconto un libro, è come se io scrittore vi racconto un libro, quindi come se facessero delle domande a una sorta di intervista, parlando appunto di la cura, quindi anche se la cura non è ancora completata, non è ancora finita, probabilmente andiamo a 2024, però diciamo che si può essere a un buon punto della situazione per poterne effettivamente parlare, e quindi cercherò anche comunque di rispondere a queste domande senza farle spoiler, perché metti caso uno vorreste iniziare a leggerla, o giustamente lo sta leggendo, alcune domande magari sono, alcune risposte scusate, potrebbero trattare capitoli che ancora non sono usciti, o che non sono ancora stati pubblicati, quindi insomma evitiamo quindi lo spoiler. E detto questo, partiamo con le domande, se ovviamente vorrete sopportare la cura, comunque rimanere aggiornati sui suoi aggiornamenti, potete farlo seguendo il blog che vi lascio in descrizione di Tumblr, dove viene pubblicata la cura, o comunque seguire l'account Instagram inerente DrHeirichWolmer, se invece volete rimanere sintonizzati sui miei cospi, sui miei eventi, tutto quanto, seguitemi come sempre sul mio solito account principale, faccio io a Frank Sixavier, per essere aggiornati su tutte le minchiate che faccio. Detto questo, si parte con il video, bellissima questa musichina di macchina da scrivere, quindi domanda numero uno, cosa mi chiede? Cambia il titolo del libro con uno che potrebbe sostituirlo perfettamente. Allora, io ho scelto come titolo la cura, perché volevo rimanere vicino all'originale, quindi la cura dal benessere, però volevo comunque qualcosa di diverso, quindi ho scelto la cura perché nel racconto viene citato numerose volte questa cura miracolosa che il barone ha creato, l'importanza di cos'è la cura, nel senso che il male stesso delle persone è la soluzione per arrivare alla cura, quindi per guarire devi essere malato, quindi insomma tutte queste cose così. Quindi ho pensato che la cura fosse interessante e suonasse anche bene, poi tra l'altro la cura di Alessandro delle Vigne suonava un sacco bene, quindi per questo che ho scelto la cura. Però se dovessi usare un titolo diverso, potrei scegliere la famiglia, la vendetta, cioè tantissime altre cose, entrambi dovrebbero andare bene, perché comunque si parla di famiglia e si parla di vendetta, quindi uno di questi due potrebbero funzionare. Descrivi con cinque aggettivi il personaggio principale. Il personaggio principale del barone, come ben sapete, è ispirato a quello originale, quindi il dottor Volmer di La cura dal benessere, poi sotto alcuni punti di vista me in medesima persona e poi Jason Isaacs. Quindi se dovessi dare cinque aggettivi inerenti al racconto, direi vendicativo, manipolatore, direi comunque infantile, su alcuni aspetti è decisamente infantile e paranoico, però allo stesso tempo anche molto leale e molto affettuoso. Quindi in realtà sono sei, però insomma affettuoso va messo. Almeno inerente alla famiglia ovviamente, con altre persone è tutt'altro che affettuoso. Se potessi fare una domanda a un personaggio, quale sarebbe? Allora, sicuramente molti di voi si penseranno che io farei una domanda al barone, essendo il mio personaggio. Se dovessi non sapere niente della cura, non dovessi essere la scritta, quindi dovessi sapere cosa c'è dietro e tutto quanto, sicuramente chiederei ad Hans quali sentimenti, quale cose l'hanno portato a essere comunque così devoto, leale al suo titolare, cioè a essere per lui amico, confidente, complice, padre e tutto. Quindi sicuramente devi fare una domanda ad Hans del genere. Cioè, quali sentimenti Hans provi per quest'uomo? Poi, quale personaggio vorresti essere? Allora, io non vorrei essere nessun altro tra il mio personaggio, nel senso l'ho basato su me stesso, ci ho messo l'anima e il corpo nello strutturarlo, nemmeno comunque ridargli un design, perché comunque volevo, sì che fosse esperto, ma volevo comunque che ci fosse un tratto, un calco personale. E quindi è sicuramente quello su cui ci ho messo più enfasi nel crearlo, perché, ripeto, è basato su di me, quindi c'è un attaccamento più personale e sono orgoglioso di com'è, di com'è stato definito, dell'evoluzione che ha fatto, di dove è arrivato fino adesso, quindi non sarei nessun altro se non lui. Quali nuove parole hai imparato? Allora, questo è divertente, perché sinceramente nessuna, tra l'altro, come ben sapete, la cura viene revisionata da Eva, quindi, cioè, se l'avete letta in ortografia corretta, potete ringraziare lei. Quindi l'unica cosa che posso dire è semmai di aver imparato, semmai un po' a migliorare come si scrive, e un po' la mia grammatica, leggermente, quindi questa è l'unica cosa che posso dire di aver imparato lavorando alla cura. Dove è ambientata la storia? La storia è ambientata in Svizzera, più precisamente in questo castello, che poi è stato trasformato, in tempi poi più recenti, in un centro benessere, allo scopo di vendicarsi di una perdita molto importante per il personaggio principale, cioè per il barone. E anche se poi ogni tanto ci sono scenari diversi, ci spostiamo magari in città, in montagna, eccetera, eccetera, principalmente il più delle volte è ambientato all'interno proprio di questo castello. C'è una parte in cui hai riso. Allora, ci sono diverse scene divertenti, perché comunque ci sono delle scene comedi, divertenti. Quella che più mi è piaciuto scrivere, che mi ha fatto più ridere scrivere, fino ad oggi, è stata questa scena quando c'è Olga, che si è appena fatta sistemare i capelli dal barone, e tutti ovviamente se ne sono resi conto, e tutti, anche se la differenza proprio è zero, sono lì a enfatizzare quanto lui sia stato bravo a lavorare, eccetera, eccetera. E c'è Hans che se ne esce dicendo, ma è praticamente uguale a prima, non è cambiato niente. E tipo c'è il barone che sale sulla sedia dicendo, ma non lo vedi che sono più corti di 5 mm? Quindi una cosa divertente ovviamente è che lui, cioè, come fai a accorgerti, cioè se tipo tagli 5 mm è come se io tagliassi meno di una puntina di questa parrucca, cioè non te ne accorgerebbe nessuno. Quindi fa proprio notare quanto lui sia tipo meticoloso sulle cose. E tipo, quindi lui sale sulla sedia e tutti sono lì, Olga fa facepalm, Edith se la ride, ed è divertente perché c'è i pensieri di Klaus che si domanda se suo zio si spappolerà il muso per terra oppure no. Quindi quella è stata una cosa divertente, perché secondo me se dovesse succedere una cosa del genere con le loro parti reali, quindi io che salgo sulla sedia, punto il dito a Cristian, secondo me la Federica Raffi effettivamente si penserebbe, ora si spacca il muso. Soprattutto considerando quanto io abbia riflessi di un bradipo. Esprime un parere sul titolo del libro. Allora, io penso che il titolo La Cura, come vi ho già detto prima, ho già spiegato perché è stato scelto, penso che sia quello che racchiude proprio sinteticamente ciò di cui si parla. Cioè alla fine tutto gira intorno a questa cura. La cura ha creato, ha reso possibile l'esistenza di un personaggio. La cura è la chiave che c'è dietro il segreto, il mistero oscuro di questo castello. Ed è anche, cioè quindi tutto gira intorno a questa parola, a queste due parole, la cura. Quindi credo che sia proprio top. Quando è ambientata la storia? La storia è ambientata a giorni nostri, quindi diciamo comunque in questi anni. Quindi potremmo tranquillamente dire che è ambientata nel 2023 ad esempio. Però quando l'ho scritta mi sono prefissato come obiettivo, come se la storia fosse ambientata tipo, che so, tipo 2018-2019. E quindi comunque siamo in un'epoca moderna, ecco. Scusate, con la parrucca poi che mi va nel naso, top. Un po' sono un po' raffreddato, quindi scusate. Allora, questa è la salto perché trovo un finale alternativo. Allora, la cura ha una bozza di finale. Sperando che non cambia l'idea all'improvviso, ma non credo ormai. Penso ormai di rimanere su questa linea qui. Quindi questa la salto perché, non essendo ancora sicuro, non vorrei involontariamente poi che la cosa condizionasse la mia scelta. Quindi mi dispiace, ma fino all'ultimo sarà un segreto. Quali frasi del film e del libro ti hanno colpito? Allora, quella che in più maggiormente mi ha toccato, credo che siano tutte le volte che comunque i ditte Klaus parlano o pensano inerente allo zio. Cioè, in quelle circostanze lì si sente effettivamente quanto loro sono attaccati a questa persona e quanto è profondo il loro legame, che poi rappresenta quanto effettivamente sia profondo poi nella realtà fra le loro coparti realistiche. Però, se dovessi proprio dire una frase che mi ha fatto proprio è, in senso ironico, legata a questa scena. Praticamente c'è una frase nel racconto che dice esattamente Anna era fiera dell'uomo che era suo padre, pitipiputupupo, l'illustre medico, le esatte parole, abbiate pazienza, non me le ricordo, e quando feci leggere la bozza di quella scena lì alla Federica Raffi, cioè Klaus, commentò il fatto che sicuramente era orgogliosa dell'uomo che era suo padre per via della sua immensa anguilla e quindi ne si creò tipo una serie di audio in cui ci si stava sganasciando le risate, cioè io morivo, cioè veramente sparava delle puttanate incredibili inerente a questa cosa che mi hanno ucciso, quindi è quella che mi è rimasta più impressa, cioè a distanza di anni ogni tanto io la ritiro fuori, perché cioè a distanza di mesi, scusate, ogni tanto io la ritiro fuori. Quali sentimenti hai provato scrivendo questo libro? Molti, sia positivi sia negativi, sicuramente la cosa che più mi è piaciuta e mi piace tuttora di aver creato e aver lavorato alla cura è il fatto che ha coinvolto tante persone, quindi abbiamo lavorato insieme nella realtà come lavoriamo insieme per altre cose all'interno del racconto, quindi questa è la cosa che più maggiormente mi ha fatto piacere, il fatto che abbia proprio coinvolto tante persone non sia una cosa che appunto, cioè io ho iniziato a farla, l'ho scritta, l'ho pubblicata, finita lì non la legge nessuno, no, c'è proprio tutto, cioè c'è proprio tutto un lavoro dietro, la revisione, l'essersi messi a tavolino a decidere, a buttare idea, a confrontarsi, a parlarne proprio, dire ma sai ti ricordi quando abbiamo detto questa cosa, il personaggio ha fatto questo, un po' come quando, un po' come se parlassimo di una serie, no, poi c'è una serie che conosciamo solo noi e che abbiamo visto solo noi, solo che appunto è bello perché poi c'è del personale, perché come alcuni tratti di Barone sono miei, alcuni tratti di loro sono finiti nei loro personaggi, quindi top. Su cosa ti ha portato a interrogarti questo libro? In realtà su niente, nel senso non mi ha suscitato particolari domande, perché comunque non è un racconto che si basa su chissà quale profondità interiore, spirituale, religiosa, politica, sicuramente posso, l'unica cosa magari che mi potrebbe essere in mente è se nella realtà le persone che mi circondano arriverebbero addirittura a essere complici miei in determinate circostanze. Nel senso, mi spiego meglio della serie, cioè qui si parla di vendetta, eccetera, cioè dico della serie, se io dovessi effettivamente mettere in pratica una cosa del genere, loro mi seguirebbero, ovviamente vorrei sperare di no, è come vorrei sperare che non arriverei mai a fare queste cose, ma conoscendomi è praticamente impossibile. oppure magari a volte stesso più che altro, più che domandarmi, quindi più che farmi la domanda, ho avuto una realizzazione, cioè ho realizzato quanto effettivamente la realtà fosse para alla, tra virgolette, fantasia, nel senso, mentre scrivevo la cura, mentre lavoravo alla cura e vedevo quanto loro lo aiutassero, lo supportassero, indipendentemente da tutto, non l'hanno mai abbandonato, cioè la sua più grande forza, il suo più grande potere, cioè la vera forza di quest'uomo, risiede proprio nel supporto, nella vicinanza della sua famiglia, che non l'ha mai abbandonato, in nessuna circostanza, e lì ho avuto la realizzazione scrivendola, proprio perché era un momento, è tuttora un momento, un periodo in cui, vacillo, in cui di riscoperta, di rinascita, chiamarla così, cioè, in cui tutte le mie certezze, in cui tutte le mie cose, sono state scombussolate, o sto praticamente cercando, di reinventarmi da zero, cioè, la vicinanza, la presenza, comunque, della mia famiglia, di me, di me, Arles, Sandro e delle Vigne, cioè, e parlo ovviamente sempre di loro, dei miei amici, mi ha dato modo, di dire cazzo, cioè, come rappresenta la realtà, cioè, come la sua forza, sono la sua famiglia, la mia forza, sono loro, quindi nel senso, è stato proprio bello, dire cazzo, cioè, è proprio vero, non è una cosa, che è stata enfatizzata, che è stata romanzata, della serie, vabbè dai, abbiamo reso il rapporto, più di quello che è, no no, è proprio così, poi certo, vorrei sperare, che se io, commettessi dei delitti, non credo, che mi venivano dietro, però, questo me lo devono dire loro, insomma, ecco, andiamo avanti, cosa non ti è piaciuto, del libro, niente, in realtà, non c'è una cosa, di la cura, che mi ha fatto dire, tornassi indietro, questa cosa, non la direi, sono pienamente soddisfatto, di come l'ho strutturata, di che piedi la sta prendendo, e che piega, probabilmente prenderà, quindi io personalmente, non c'è niente, per gli altri, non lo so, non so se gli altri, ci sarebbe qualcosa, che tornassero indietro, vorrebbero modificare, io personalmente, ripeto, sono pienamente soddisfatto, di dove siamo andati, a finire, ecco, cosa hai apprezzato, del tuo libro, ripeto, la cosa che più ho apprezzato, è il fatto che abbia, coinvolto tutti, cioè tantissime persone, che ci ha propostato, proprio un lavoro materiale, proprio fisicamente di gruppo, quindi quella è la cosa, ripeto, che ho apprezzato più di tutto, descrivi il personaggio, che non ti è piaciuto, emotiva la tua risposta, ripeto, non c'è nessun personaggio, che mi ha fatto dire, no guarda, tornassi indietro, a te non ti inventerei, perché mi fai cagare, no, cioè sono pienamente soddisfatto, proprio di come esiste, di come sono strutturati, sia personaggi positivi, che personaggi negativi, qualcuno dei personaggi, ti ricorda una persona, che conosci, in che modo, beh praticamente, tutti i personaggi principali, sono basati, su persone realmente esistenti, quindi, non ce ne sono tutti, praticamente, questo, è sempre stato risaputo, tra l'altro, è uscito un video, che proprio raccontava, come è nata la cura, e tutto quanto, quindi sapete, che è nata, dopo un sogno mistico, spirituale, quindi, questo è risaputissimo, non era un segreto, ecco, questo lo saltiamo, perché esprime un parere, sul finale del libro, e abbiamo già detto, che il finale non si dice, inserisce un momento importante, del libro, e perché, allora, questo momento, non è ancora uscito, no, non credo, non credo che sia ancora uscito, perché, mi sembra che sia nel capitolo, sedici, se non dico una boiata, quindi non è ancora uscito, però, esiste la bozza, quindi cercherò di dirvelo, senza fare spoiler, però, lo potrei descrivere, dicendo, che è un momento, in cui, praticamente, avviene, l'effettivo power up, di Klaus, sapete, tipo, quelle scene negli anime, o nelle serie, in cui c'è il personaggio, un personaggio, che, a volte, l'abbiamo visto vacillare, a volte si è trovato, in situazioni difficili, e, ha sempre stato necessario, l'intervento di un altro personaggio, e, alla fine, in quel momento lì, succede che lui, tipo, ha un flashback, ha un ricordo, cioè, quindi, gli arriva la scossa, la motivazione, che gli fa dire, no, cazzo, questa volta, non va così, questa volta va, come dico io, ecco, lì, praticamente, quindi, Klaus si trova in questa situazione, difficile, non vi dico quale, e, e un flashback, che gli farà dire, cazzo, questa volta, non succederà, come le altre volte, ed è un momento molto profondo, e molto toccante, che mi è piaciuto tanto scriverlo, mi sono emozionato molto, nel scriverlo, fai un confronto, tra un episodio, accaduto nel libro, e uno fatto, è un fatto analogo, a te capitato, allora, sicuramente, ce ne sono diversi, perché, ripeto, essendo comunque basato, anche su cose personali, ce ne saranno più di una, però, l'unica cosa, che mi viene in mente, senza starci a pensare un'ora, è il fatto che, lui la sera, fa le notate, su Seven Cups, io la sera, faccio le notate, su Seven Cups, tra l'altro, se volete, prefissare appuntamenti, per avere consulenze, eccetera, su Seven Cups, potete scrivermi, anche su Instagram, questa cosa, l'avevo già detta, però, la ripeto sempre, basta che mi iscrivete, come inizia la storia, beh, la storia, si apre con Hans, quindi con il co-protagonista, quindi non con il protagonista, che, durante una giornata di pioggia, torna al castello, dopo vi è fatto delle commissioni, e se non ricordo male, viene citato, che la meridiana, batteva mezzogiorno e mezzo, quale episodio del libro, è stato più emozionante, ve l'ho appena citato, secondo me, il più emozionante, è appunto, stato questo qui, di Klaus, cioè, fino adesso, fino a mo', per me rimane questo, poi magari ce ne saranno altri, però per me adesso, personalmente, questo rimane più emozionante, descrivi il libro in una frase, beh, in un'unica frase, potrei dire, che, a volte non puoi fottere con una persona, perché se fotti con una persona, puoi fotti con tutta la sua famiglia, ecco, un po' tipo la mafia, ecco, loro sono una sorta di mafia, tra virgolette, attraverso la copertina del libro, quale informazioni si ricavano, allora, dato che non esiste una copertina, di questo libro, per il momento, però se dovesse esistere, sicuramente sarebbe l'immagine del castello, perché alla fine tutto si concentra, tutto accade lì, quindi sicuramente sarebbe la cosa più importante, il castello, quale è il problema principale, che deve affrontare il protagonista, vendicarsi, il protagonista, lo scopo della sua vita attualmente, è quella di riuscire a vendicarsi, della perdita subita, quindi contro i suoi nemici, quindi non avrà pace, fin quando tutte le persone, che hanno contribuito al suo problema, ma non moriranno male, malissimo, poco vendicativo, niente, questa domanda, sempre sul finale, quindi, nisba, le domandine sono finite, quindi niente, basta, spero che vi siate divertiti, nel sapere queste cosine, e io molto, mi sono divertito tanto a rispondere, e soprattutto, non vedo l'ora, di continuare a lavorare a questo progetto, è divertente, perché comunque sono usciti anche dei contenuti natalizi, quindi nel senso, non pubblichiamo solo la storia, ma comunque, ogni tanto pubblichiamo anche le immagini, eccetera, eccetera, quindi, spero che appunto sia stato, per un viaggio bello, interessante per me, come anche per le altre persone che hanno contribuito, e sicuramente è stato una cosa, che mi ha aiutato molto, in questo periodo, quindi focalizzarmi, mi ha aiutato anche a, analizzare meglio anche la mia persona, a capire, quindi ho notato, è stato bello che ho notato, che come evolvevo io interiormente, anche la storia, magari all'inizio aveva preso un verso, poi ne è subentrato un altro, poi alla fine un altro ancora, quindi praticamente la storia, la trama, e il personale, l'idea è evoluta, assieme anche a me, quindi questo è molto interessante, quindi, è bello vedere come è partita l'idea iniziale, che era totalmente ovviamente sbagliata, per poi arrivare all'idea attuale, di com'è la cura attualmente, quindi cos'è la cura attualmente, e dire, bene, siamo riusciti a fare un passo importante, e detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, e in teoria dovrebbe uscire un video prima della fine dell'anno, se non succede niente prima, se non ci sono i topi, magari a capodanno, prima della fine dell'anno, vi faccio un video di saluti, di ringraziamenti, eccetera, eccetera, io vi auguro buone feste, buon Natale, mi raccomando, ingozzatevi tanto, io sicuramente sì, e rilassatevi, riposatevi, e se non avete niente di bello da guardare durante queste feste, vi consiglio tre serie, qualcuna, tre serie, allora, prima di tutto vi consiglio di guardare A Murder at the End of the World, ve lo trovate su My Flixer, guardatela perché è top, è degli stessi autori di Doha, quindi anche Doha ve lo consiglio assolutamente, se non l'avete visto, anche se purtroppo la terza stagione non la vedremo mai, maledetti bastardi, però insomma guardatevela perché è proprio tanto bella, e ultimo consiglio, terzo, guardatevi Lisei Stories, che è preso e ispirato dal romanzo di Stephen King, perché è molto bella, io la sto guardando, sono alla puntata 4, stasera devo guardarla a 4, edito bellissima, quindi spero che questi suggerimenti vi piacciono, e che andrete a vedere qualcosa, noi ci vediamo, tra virgolette vi do appuntamento sul mio Instagram, per vedere poi le foto effettivamente di questo benedetto cristiano, e niente, io vi saluto, ripeto, e noi ci vediamo al prossimo video, dove non so che farò, ma farò qualcosa, ancora buone feste, ancora auguri, passate una bella serie di giornate natalizie, divertitevi, mangiate, e rilassatevi, un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!